Noi invece andiamo avanti con la nostra prossima canzone, ovvero un omaggio all'Equador che è appunto festeggiato da noi questa sera e lo facciamo con Winston Rambai. Winston, ciao! Pronuncio bene il tuo nome e il tuo cognome? Winston Rambai. Perfetto, allora non ho sbagliato. Tu di dove sei? Di che parte dell'Equador? Maciala, del mare. Ah, del mare, quindi. Sì, della costa. Sei un po' marinaio, un po' come me che sono triestino. Ci presenta una canzone tipica dell'Equador che si intitola Cogliar de Lagrimas, quindi un collare di lacrime. Un collare di alime, dell'alime, sì. E una canzone che in qualche modo il pubblico, la gente dell'Equador conosce bene? Sì, perché è molto conosciuta, è una canzone che rappresenta quando noi usciamo dal nostro paese, lasciamo tutto, nostra famiglia, nostra terra. Ah, quindi in qualche modo ci si veste del collare di lacrime perché si è triste e si piange in quanto si lascia la propria terra. Allora con questa canzone, signore e signori, a vamos a bailar Winston Rambai. Allora con questa canzone, signore e signore. Así sarà il ragazzo, quindi ribelli il tasto e vivacimento. Llorando le conto di mia patria, le conto di mia madre e di mia amore Llorando le conto di mia patria, le conto di mia madre e di mia amore Un collar de lacrimas dejo en mis manos, y el pañuelito conservalo mi bien Y en las lejanías sera mi patria, que con mis canciones recordare Y a mi madre santa, le pido al cielo, le concedo siempre la bendición 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 Llorando le conto di mia patria, le conto di mia madre e di mia amore Un collar de lacrimas dejo en mis manos, y el pañuelito conservalo mi bien Y en las lejanías sera mi patria, que con mis canciones recordare Y a mi madre santa, que con mis canciones recordare Y a mi madre santa, le pido al cielo, le concedo siempre la bendición La bendición La bendición La bendición Y en las lejanías sera mi patria, que con mis canciones recordare E a mi madre santa le pido al cielo, le conceda sempre la bendizione, la bendizione. Emozionato, mamma mia, sicuramente è emozionato voi da casa e anche noi.